Stefania Orlando si è affidanzata di nuovo, ecco chi è l'uomo misterioso. Dopo la fine del matrimonio con Simone e Gian Lorenzi, la bella showgirl ha ritrovato l'amore ed eccola con un nuovo compagno che finalmente ha un nome e un cognome. Come se non bastasse i due sono stati pizzicati insieme mentre escono dallo stesso portone per poi salire in auto di lui, e andare al ristorante. Ora quindi c'è anche un volto, oltre il nome. Ma chi è il nuovo fidanzato di Stefania Orlando? C'è da dire, dopo le foto, che i due non si nascondono più, tuttavia la showgirl non ha ancora ufficializzato la relazione e non ha ancora mai parlato di lui pubblicamente. L'uomo partner della Orlando si chiama Marco Zecchini, ha 49 anni e anche lui è separato. L'uomo ha tre figli e di mestiere fa l'avvocato e il consulente finanziario. Zecchini è anche professore di diritto del mercato finanziario alla Facoltà di Economia dell'Università La Sapienza. Stefania Orlando si è affidanzata di nuovo, ecco chi è l'uomo misterioso. D'altro canto era stato proprio il settimanale chi ad anticipare che si trattasse di una personalità influente, nel precedente numero del settimanale. Ma la relazione è stata portata alla luce del sole proprio dall'uomo che, su Instagram, dopo il concerto di Claudio Baglioni, ha pubblicato una foto con Stefania Orlando e il cantante. L'uomo arriva nella vita sentimentale di Stefania Orlando dopo una storia lunga 15 anni con Simone e Gian Lorenzi. A Verissimo, la donna aveva raccontato che un anno fa era terminato il loro amore. A Silvia Toffannin aveva detto, è stato un grande amore. Purtroppo anche i grandi amori finiscono. Sono contenta che siamo riusciti a chiudere con armonia, dignità e affetto, senza livori, senza rancori. E ancora Stefania Orlando, all'inizio ti senti persa e smarrita, poi assapori un gusto nuovo. La mia nuova vita da single mi piace. Del resto non ho mai avuto paura della solitudine, anzi, anche in coppia ho bisogno di prendermi i miei spazi e i miei tempi. Ora le nuove immagini pubblicate da chi è la conferma dell'uomo, non lasciano spazi a dubbi.